Adesso 10 secondi. Jumping jack. Sia a terra che sul trampolino è eccellente. Un lavoro brucia grassi per eccellenza. Adesso 10 secondi. Continua a saltare appoggiando sui taloni, non solo sulla punta del piede. Le piedi sono sempre nella stessa direzione delle ginocchia che proteggere le ginocchia. 10 secondi. Il freno è fatto con le gambe e non con la schiena. Gli addominali rimangono tesi. 10 secondi. Dosi la tua forza. Puoi anche andare più lentamente, ma continui a lavorare per tutti i 20 secondi. E relax. 10 secondi. Insisti, lo so che sei stanca, però stai facendo un lavoro inclettante, fantastico, per migliorare la tua forma fisica. Dai, dai, dai! E adesso 10 secondi. E adesso 10 secondi. lesi la taybata. È bella perché fai tanto, in poco tempo. Per questo è così stancante. però dai, hai quasi finito e stai facendo un lavoro incredibile e rilassi dai spingi con quelle gambe, continui a lavorare con le ginocchia che rimangono parallele spingi sui taloni, non, non smettere adesso, dai, hai quasi finito, stai facendo un lavoro incredibile e adesso dieci secondi coccodrillo cominciamo a portare con un piccolo bounce con le braccia, le gambe lateralmente come se stessi avanzando con le gambe a coccodrillo posso anche fare una piccola contrazione con il busto spalle verso anca, spalle verso anca continua proprio destra e sinistra più veloce possibile se sei sul trampolino spingi verso il centro del trampolino ripartiamo continuo a spingere e partire e lavorare con gli abdominali che sono tesi, le gambe che stanno lavorando e anche le spalle che stanno spingendo verso il basso per fare il massimo del mio allenamento per l'abdome, le braccia, le gambe e non solo coccodrillo è veramente un allenamento total body, eccellente perché allena un po' tutto, le gambe, i glutei, l'abdome, le braccia, i pettorali continuo a lavorare intensamente a lavorare intensamente Divertiti, dositi, puoi andare più lentamente, più velocemente, la cosa importante è di insistere. Lavorare, concentrare e spingere al massimo. Divertiti, dositi, puoi andare più lentamente, più velocemente, la cosa importante è di insistere. Continua a lavorare intensamente. Tocchiamo da giù e su, lavoriamo proprio dal basso verso alto, toccando terra e poi sollevandoci in su. La cosa importante è di lavorare bene, velocemente e continui a fare il tuo lavoro, meglio che puoi, provando di fare piccoli salti, lavorando su e giù e su e giù, continui e pronti per 10 secondi di recupero. Questo è un tipo, un burpees modificato perché non andiamo in estensione. Con il trampolino puoi provare anche di aggiungere un piccolo salto, a terra puoi semplicemente salire e scendere che è altissimo come in, diciamo, intensità per alzare il nostro abattito cardiaco. Continui, continui, continui per fare il massimo del vostro allenamento. Non crolliamo con la forza di gravità, proteggiamo la nostra articolazione, ancora e relax, 10 secondi. Dai, ancora, lo so che è tanto, però la cosa importante è rimanere con le ginocchia che seguono il dito medio del piede, fletti le ginocchia, lavori bene e rallenti se necessario, ma continui di insistere per fare questo bellissimo Tabata di settembre. E' quasi finito. Continui a fare il tuo lavoro, bravo, 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 stiamo facendo tanto per, proprio per bruciare un sacco di calorie. Non crolliamo con la forza di gravità, proteggiamo la nostra articolazione, ancora e relax, 10 secondi. Continui a fare il tuo lavoro, bravo, bravo, bravo. Stiamo facendo tanto per, proprio per bruciare un sacco di calorie.